Si chiama Sanna Marin ed è la presidente o meglio la premier della Finlandia, la quale pensate che si sarebbe recata in discoteca pur sapendo di essere entrata in contatto con una persona positiva al covid-19. Il fatto si sarebbe verificato sabato scorso quando la donna si è recata ad una festa di un locale a Helsinki, un locale molto molto rinomato e quindi famoso e proprio la donna sarebbe entrata in contatto con questo positivo. Nel paese scandinavo è scoppiata la polemica, la bufera, le critiche sono state ricevute dalla donna, la premier però si è scusata subito nei diversi social network. Si è difesa, ha fatto sapere che all'inizio per l'appunto non doveva stare in isolamento, poi ha ricevuto un messaggio da parte delle forze sanitarie e dalla polizia di sicurezza che diceva di evitare i contatti sociali. SMS che però non si è accorta perché il telefono era il tuo telefono ci pare in servizio. Insomma, a far vedere a breve, la donna nonostante le scuse che ha manifestato apertamente si è ritrovata in un vortice di polemiche infinite proprio in Finlandia, il paese scandinavo per eccellenza. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, vi ringrazio per la visione, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti da Andro, Dallatore Italiano.